DELIZIOSO Buongiorno, missy! Giotto, la colazione! Giotto, vieni subito qui! Dove sei? Togliti da lì! Quante volte devo dirtelo pazzo di un cane? Ecco, questo è il tuo cibo! Aspetti coltello e forchetta! Forza, margia! D'accordo, tocca a te fare la doccia! Sei l'unico cane mare in mano in tutta la storia che non è capace di proteggere delle galline! Come me lo spieghi? Dammi un motivo per cui non dovrei venderti al miglior offerente! Non ci guadagnerai molto! Non andrò! Ok! D'accordo! Che fai! Grazie a tutti